Vincenzo Vita, all'Assemblea del Partito Democratico, come valuta la proposta di Epifani, reggente? Ma in tutta franchezza, con stima per Guglielmo Epifani, che io ho conosciuto in tempi, diciamo, non sospetti, quando lui era ancora in crescita sindacale, era segretario dell'allora Fil Sigelle, si occupava di comunicazione, bene, devo dire, in una stagione difficile, e ne ho stima come persona e come dirigente sindacale. Non avrei fatto questa scelta, lo dico in franchezza, mi sembra una scelta molto conservativa. Avrei puntato su una scelta più esplicitamente e simbolicamente di novità. Questo è il mio parere in tutta franchezza. Qui davanti ci sono un gruppo di simpatizzanti o di iscritti al Partito Democratico che dicono che protestano Occupy PD. Cosa ne pensa? Che in verità, attorno a questa metafora di Occupy, che ormai è una metafora che rimbalza nel villaggio globale, c'è una richiesta di novità. Credo che il ceto politico del PD debba con umiltà confrontarsi. Questa è la novità del mondo di oggi, non è solamente qui. E quindi, a suo parere, con Epifani questa risposta non viene data. Non viene data. Ripeto, lo dico con rispetto, eh, di Guglielmo, perché è una persona capace, ma onestamente è una scelta molto conservativa.